In questa video guida parliamo di saldatrice a filo continuo. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. La saldatrice a filo continuo differisce da quella a elettrodi in quanto utilizza un filamento posto al suo esterno sotto forma di bobina, questo semplifica e velocizza la saldatura da effettuare, la velocità di avanzamento del filo può essere regolata. Adatta soprattutto a lavori in ambienti riparati, utilizza un gas che può essere attivo o inerte, per proteggere il filo in uscita dalla torcia evitandone l'ossidazione e prevenendo la formazione di scorie. Alcune saldatrici a filo più moderne però non utilizzano il gas in quanto il filo è protetto dall'ossidazione contenendo alcuni elementi chimici, ma danno comunque la possibilità di montare una bombola di gas qualora fosse necessario. Grazie. 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 Grazie.